Ciao ragazzi sono Dado, oggi ci troviamo in un nuovo video su Maytans Live Defense Andiamo a fare le missioni bestia Le missioni 16 a 20 Allora passiamo con la 16 Distruggi una base nemica entro 13 secondi Abbiamo due mecha, i due mecha originali Il velivolo volante E il generale Partiamo con il max e con il coso per spammare unità Quindi questo livello è una cazzata Ma che è un'idea E' un'idea E' un'idea E' un'idea E' un'idea Si' un'idea un'altra macchina guarda molto felice in caso di un altro tipo di un'altra macchina parecchio diverso un'altra macchina un'altra macchina in più in questo tipo non ci sono proprio un'altra macchina non puoi fare in più vai in sara in sara in più in in questo video ci sarà una missione parecchio difficile da fare con leone sembra una missione 18 facciamo la 17 missione anche essa un pochetto difficile ma se seguite i miei passi possiamo vincere comunque semplicemente va allora allora dobbiamo vincere per questo qui poi mi ha già messo dai dai abbiamo l'arrasciopo il nob saru nob questa è la sarugia e questa che è la notte di livello di massimo di livello è questa un'altra scopo si vede è un heightened E' un po' più vista. E' un po' più vista. Arriva anche la slab di farlo. E' un po' più farlo. E' un po' più vista. Ora viene il Dario. Mi sembra una missione di troppo. Diciotto. No, anche questa è difficile. Con solo il cecchino. Seguite attentamente a quello che farò. Perché c'è solo una possibilità di vista qua. Sennò poi dovete abbandonare e cominciare. E' un po' più vista. La, non siamo. Ecco. Cacco. 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 Ma se ci fa girei. Sì. Se ci fa giveri. Mi ne Chico. G5-3-3-2. E' già perso. Vabbè, riproviamo. Concentrazione... Eh, è evidente, ovviamente, tutta la sintetica del fuoco nemico, e la vostra vantaggio è per avanzare un attimo il sape. Una coltellata a distruggere la base. Distruggi, prendeci... Chi è... C. Andiamo. Divertente, sta missione. ... E' un po' ok, e' un po' ok. l'idea è il top di me occhio, boom bella sensazione neanche questo video è il punto, al termine quindi noi ci vediamo nel prossimo video ciao